E azione. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a chi c'è, che non credo siano tanti in effetti. E così ha inizio. Perfetto, si sente anche l'audio, perfetto. I comandi vocali funzionano. Comandi vocali, nuova frontiera della tecnologia. Assolutamente pazzesco, assolutamente pazzesco. Assolutamente incredibile. Esatto, esatto. Buon pomeriggio, come va? Tutto bene? Ciao a tutti. Aspettiamo un po'... Sì, aspettiamo i classici cinque minuti. Avviso su Twitch. Che finisca di mangiare. Esatto, avviso su Twitch che... Sì, su Twitch, su Instagram. Che siamo in arrivo. O là. Poi d'altro ho anche mangiato di corse a venerdì. Cioè, messo sulla pasta, l'acqua non bolliva più. Alle due dovevo andare via. L'acqua... Ho scolato la pasta tipo ai cinquantasei. Ciao, caro. Ti giuro, l'ho messa la venti minuti l'acqua, non bolliva. Ma di santo, la sera hai messo dei ghiaccioli. È terribile. Però era già salata di suo, forse, dal rubinetto. Non bolliva più. Esatto. È stato folle come così. Ero là, tipo, dai cazzo che devo andare via di corsa. Va, vabbè, guarda. Grande, grande. Però in compenso... Aspetta, intanto faccio la storiella. Eh, sì. In compenso, forse sì, riesco a fare quella roba là, quindi bene. Riesco a fare quel progettino, quindi... Direi bene. Non c'è più la Gif Stonks. Direi più che bene. Mi piaceva la Gif Stonks. Stonks. Non trovo più. Vabbè. No. Niente. Anch'io volevo un po' di Gif Stonks. Eh, invece niente, Gif Stonks. Beh, avete visto il titolo? Quindi, se sapete leggere, insomma, sapete cosa ti fa oggi. Forse. Non tutti lo so, non tutti riescono, infatti io. Sanno leggere. Ma che potremmo ancora leggere. Non sono bravissimo. Ah, possiamo fare un pronostico. Cosa si fa oggi? Mi piacciono le scommesse di punti, vi piace. Siete delle persone come me che aprono stream a caso per cercare le scommesse di punti canale? No, non lo faccio. No, non mi è ancora capitato, ma sinceramente. No, ogni tanto guardo qualcuno che gioca ad Apex e so che fanno le big scommesse. Ah, sì? No, è meglio scommettere i punti. No, se vanno in punti positivi o punti negativi. Ah! Infatti volevo giocare, volevo mettermi a giocare anche io ad Apex perché è da un po' che volevo fare tipo una giornata in cui mi metto a giocare, non qui ovviamente, però sarebbe più, mi metto qua sulla Malab ad Apex, Apex Lab. Fai un po', esatto, e poi editing delle kill. Editing delle, beh, facciamo una collection, killcam collection. No, esatto, fai un AMV. Con in DM. Un AMV con le kill, con le tue kill, ti metti lì, ti metti in DM. Eh, beh, è pazzesco, pazzesco sarebbe. Sarebbe in effetti. Beh, ieri ho suonato, tra l'altro in live, e non sapevo fosse, cioè non sentivo effettivamente quello che usciva in totale, cioè sono riuscito a fare un casino per far andare, allora vi dico anche a chi c'è così sanno anche loro cosa vuol dire, cioè perché si bestemmia nella vita, allora c'è un motivo per cui bestemmiare è necessario, no? È lecito. È lecito. Per far andare l'audio della chitarra, no? Dai computer, quindi che entra nel computer e poi va in OBS per farlo andare in live, per trasmetterlo, cosa devi fare? Non si capisce bene, tu devi avere una scheda audio, che io ce l'ho, ed è quella con cui suono sul computer, no? Bene, quindi l'audio va dalla chitarra alla scheda audio ai computer. Poi tu devi settare che vada tutto fuori dalla scheda audio, quindi devi mettere le cuffie sulla scheda audio. Poi devi aprire un programma, che di solito è per editing musicale, eccetera, per registrare eccetera. Da lì metti che stai per registrare, col monitor, quindi vuol dire che tu senti l'audio della chitarra. Ciao strocchinzi. Ciao Fede. Ciao strocchinzo. E poi, quindi tu senti l'audio della chitarra, poi devi avere un plugin su OBS e un plugin sul software, in modo che dal software tu dici, ok, quest'audio qua lo devi trasmettere in locale, quindi nel computer. E da OBS devi dirgli, ok, l'audio che viene trasmesso da questo stesso plugin lo devi recuperare tu. Quindi in pratica tu trasmetti da un programma all'altro l'audio. Tutto questo è un casino infame. In tutto ciò, poi, se tu suoni con una base sotto, messa su YouTube, messa da Spotify, è tutto in ritardo. Bello. Cioè l'audio va... Infatti io l'ho scoperto dalla fine, no, dopo che stavo suonando, eccetera. Ho preso... Ho guardato un attimo la live e mi sono accorto che il suono che facevo io era in ritardo rispetto a tutto il resto. Ok. Tipo il giusto per dare fastidio proprio. Quindi è stata un'esperienza molto mistica. Beh dai, vedi che non ti annoi mai. Nemmeno Dio si annoia mai. Con te sicuro. Nemmeno Dio. Santo Dio. Allora, signori e signori, siete pronti? Signori e signori, giustamente. Signore no, perché noi siamo... abbiamo un pubblico prettamente maschile. Eh, sì. Che ne diciamo di questa zona gialla? Eh. Che adesso la gente impazzirà. Assolutamente. Usciranno tutti di casa, come sta già succedendo, nonostante sia ancora domenica. Però vabbè, dai. Pronto con le casse di prosecco. Allora, devo effettivamente fare un annuncio anch'io, anch'io domani vado a Venezia, che sono tipo due settimane che non vedo fulvia, quindi tre settimane, credo. Ehm... Tra l'altro ho preso anch'io delle ca... Ho preso una cassa di prosecco anch'io, se devo essere sincero. Olè! L'unico... Sono veneto e non ho la cassa di prosecco. Come funziona questa cosa. Però in compreso ho preso un moment prima, perché... Oggi non è giornata, come dicevo. Oggi proprio... Oggi no. Oggi... Ci consoliamo così. Sì, sì, sì. Con un bellissimo libro di Hiroshi Hamaia, che ha fatto i nuovi capitoli di Naruto. Sì, sì, sì. Disegnatore preso dallo studio Ghibli, uno preso dalla strada. Esatto. Vabbè. D'altro abbiamo un bot, credo, che ci segue. Saluto a... A Carbob14XYZ. Ah, sì, l'avevo visto anch'io. Ciao, Carbob. Mi dico... Dici qualcosa, se vuoi. Pazzesco. Facci un saluto, fai... Avviso a tutti che siamo arrivati. Siamo tornati porca a droia. Subbarti al canale. Esatto. A comando, subcompra. Con Amazon Prime. Spammino di Prime in chat. Vabbè. E quindi... Ola. Oggi facciamo questa cosa. Oh, sono specchiato. Oh no. Oh shit. No, no, va bene. Ah, no, scusa. Guardavo la chat di Meath. Guardavi la chat? Di Meath. C'è la videochiamata di Meath, quindi non eri specchiato per me. Ah, per te non sono specchiato. Io mi vedo specchiato su Meath. Tac, no. Cari, ma che pazzia sta cosa. È mattissima sta cosa, eh. Io mi vedo specchiato. E perché io dovrei vedermi specchiato? Ah, perché sono abituato, perché ti dicono tipo come quando ti guardi nello specchio, tipo. Cioè, quindi, se no ti confonde. Ecco, una cosa che confonde sempre, questa è una chicca. quando fai le fototessere, no, alle persone, le persone si confondono sempre e dicono che non sono loro, cioè non si piacciono mai nelle fototessere. Sì, è vero, è vero. È perché nella fototessera non ti vedi specchiato. Ah, è giusto. Perché tu effettivamente sei abituato a vederti allo specchio. È vero. Per cui ti vedi è allo specchio sempre specchiato. Sì, sì. O anche quando ti fai i selfie, in realtà. E quindi cosa succede? Che quando ti fanno la foto e non ti vedi, è perché ti vedi strano perché non sei specchiato. È vero. Scrivetelo, amici, e potete abbordare domani sera fino alle 18. Potete andare in bar a fare una foto. E poi dopo in giro fino alle 22. Esatto. Poi potete fare le foto alle fighe o ai fighi, come volete, insomma, e andate là e fa. Guarda. Gliela specchi e gli dici, guarda che figa che sei. E c'è una mica, è vero. E sai perché? Presa. E sai perché? E gli spieghi tutta questa cosa qua. E presa fino alle 22 si limona. Poi andate a casa, insomma. Casa di prosecco. Casa di prosecco. Aprite una cassa, un prosecco, insomma. Un prosecchino, una cosa, due stuzzichini, due rolobe, due panini. E via. E via che si vola. E peperina sierra, che ci ha seguito l'altro giorno, dov'è? Con questo nome incredibile. Peperina sierra, l'altro ieri. Necessitiamo di conoscere peperina sierra. Chiaramente, sì. Peperina sierra. Necessitiamo. Necessità, proprio. Va bene. Io direi che a sto punto abbiamo... Madonna, abbiamo riso, abbiamo scherzato. E abbiamo lottato per la libertà, come dice... Assolutamente. Quindi... Sempre. Si ride, si scherza e si lotta per la libertà. Quindi, direi che possiamo andare a... Fanculo. Ah, qua. Perfetto. Qui potete vedere un po' il mio setup dall'alto, no? Un po' bird eye. Eccola qui. Questo è il mio setup. Questo è il mio desk review. Adesso spostiamo tutti i cazzi e anche i mazzi. Sto cercando di capire come posso vivere in questa... Oh, qui c'è un qualcosa che fa... Cos'è sta ombra? Ah, è questa qui che fa sta ombra. Ok, fermo un attimo. Questo bellissimo... Questo è un gioco di ombre. Gioco di ombre. Sì, come il film di Sherlock Holmes. Questo gioco di ombre che fa parte del nuovo progetto di Mattia. Che ve lo tenete anche lì sta ombra perché... Ombre e contrasti. Ombre e contrasti, adatto. Bene. Quindi oggi leggiamo con un set luci un po' più strano, un po' più... Scusate il riflessione qua. Leggiamo Hiroshi Amaya. Quindi sto fotografo pazzesco. Che io ovviamente ho già sfogliato, quindi perché le riviste le ho sfogliate un po' tutte. Però oggi lo vediamo anche con voi, quindi... Iniziamo magari. Intanto facciamo un po', se volete, un po' di ASMR. Tattico. Per attirare esatto più... Per attirare un po' di figlio. Infatti i spettatori stanno visibilmente incrementando. Sì, sì, sì. Da 2 a 200 è un attimo. Esatto, è un attimo. Andiamo che... Il sol magna e ore. E non abbiamo tutto il pomeriggio. Esatto. Hiroshi Amaya. Eccolo qua. Sto cercando magari se metto un po' più basso sta luce forse. Se vediamo fiamma io. Oh là. Ecco qua. I grandi fotografi. Tra l'altro io, cioè dentro alle riviste, non mi ricordo dentro quale, ho la foto gigante di Hiroshi Amaya. Perché a volte credo che ti... Non so se su tutte, ma non credo. Ti regalavano una specie di brochure che si apriva, un foglio che si apriva ed era una foto gigante. Con il post, tipo poster. Esatto, tipo poster. Esatto, che poi vabbè è piegato, quindi faceva schifo quando lo apri perché c'è tutta la foto piegata. E cioè è bruttissimo. Con le pieghe nette. Sì, sì, è bruttissimo da vedere. Però vabbè, diciamo, sti cazzi. Oh là. Bene, direi che possiamo... No, sto pensando se magari zoom un po'. Oh, troppo. Ecco, così dai. Così zoomo e possiamo iniziare a leggere, però io sapete che sono old e quindi... Mettiamo gli occhiali da intellettuale. Non vedo un cazzo, sono tutti sporchi. In realtà non sono, cioè, sono occhiali finti, lo fa solo per... Sì, 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 sono vuoti, hanno le lenti vuote. Sono di più, le lenti di plastica. Esatto. Anzi, leggi peggio. Esatto, sì, sì. Sto sfocato. Beh, sicuro come sono puliti adesso leggo peggio, sì. Allora. Fotografo del cielo, intanto. Possiamo vedere Hiroshi Amaya lì in basso, in mezzo alle dune. Un eroe. Nazionale. Oh là. Vediamo. Adesso si legge. Oh, sì. Vediamo, cerco di inquadrare bene così poi sto fermo. Ok. Fotografo del cielo. È stato definito Hiroshi Amaya dal grande poeta giapponese Daigaku Ariguchi. Soltanto il poeta che va alle radici della poesia può essere chiamato il vero poeta. Così come soltanto i fotografi che stimolano incessantemente le possibilità della fotografia possono essere chiamati i veri fotografi. Per questo non vi è definizione più adatta che fotografo del cielo per una persona come lui. Nel 1981 è stato, per Hiroshi Amaya, no scusa, il 1981 è stato per Hiroshi Amaya un anno molto significativo. Il risultato di mezzo secolo di attività fotografica fu raccolto e pubblicato in un libro, mentre una mostra a lui dedicata riscosso un grande successo di pubblico. Nello stesso anno, tuttavia, la morte del grande poeta Daigaku Ariguchi, colui che l'aveva chiamato fotografo del cielo e che Amaya stimava e rispettava come un padre, fu per lui fonte di immenso dolore. Sembrò quasi che il poeta fosse morto dopo aver aspettato il giorno della pubblicazione del libro delle fotografie di Hiroshi Amaya. Il primo incontro tra il poeta e il fotografo avvenne una trentina d'anni fa, subito dopo la tragedia della guerra mondiale. Alla fine della guerra, molti artisti intellettuali si sparsero in varie regioni come se fuggissero dal caos e dalla desolazione della capitale. Ovunque essi ebbero contatti con gli artisti e gli intellettuali del luogo e insieme con loro intrapreso nuove attività. Il poeta Daigaku Ariguchi nacque nel 1892 e cominciò a scrivere poesie molto giovane. Egli fece conoscere i giapponesi nuovi poeti europei come Cocteau, Radighe, Apollinaire e Verlaine, traducendo le loro poesie. Scriveva le sue poesie in un giapponese semplice con uno stile moderno e spigliato. Il suo modo di esprimersi e la sua nuova sensibilità ebbero una grandissima influenza sulla formazione della poesia moderna giapponese. Anche egli durante il dopoguerra fuggì dal caos di Tokyo per rifugiarsi nell'acquietto del suo paese natale nella provincia di Niigata. Il poeta Ariguchi aveva 54 anni quando lo incontrava la prima volta. Egli aveva contribuito molto alla formazione della poesia moderna giapponese. Anche in quel periodo scriveva attivamente poesie e nel mondo della letteratura giapponese occupava un posto importantissimo. Visse con grande sofferenza il periodo sconvolgente del dopoguerra, stando nel suo piccolo paese coperto di neve lontano da Tokyo. L'immagine latente. L'incontro col poeta, artefice della modernizzazione della poesia giapponese, fu un'esperienza stimolante per il giovane Amaya, che cercava anche egli, sia pure in un campo diverso, di modernizzare l'arte della fotografia e di dare un posto preciso alla fotografia nel mondo delle arti. Dalle conversazioni con il poeta, Amaya ricavò un'indicazione. Non cercare di avere immagini pittoriche, ma cercare di narrare la vita umana attraverso la fotografia. Fu allora che il poeta gli dedicò una breve poesia, definendolo il fotografo del cielo. In giapponese la parola cielo ha tanti significati, cielo, creazione, divino e naturale. Per definire Hiroshi Amaya non troviamo una parola più adatta, e la poesia che gli dedicò il poeta acquista col tempo sempre maggior valore. Hiroshi Amaya nacque nel 1915 a Ueno, nel quartiere popolare di Tokyo, terzo genito di Yonezu e Fuku. Ebbe un'infanzia felice, circondato dall'amore dei genitori, dei tre fratelli e delle due sorelle. Oggi Tokyo è diventata una metropoli col cielo coperto di smog, rumorosa e piena di traffico, affollata di edifici costruiti in modo disordinato. Ma all'inizio del secolo c'erano ancora molti prati dove i bambini potevano giocare sotto il cielo limpido e scoprire un'infinità di cose a te a soddisfare la loro inestinguibile, non vedo un cazzo, voglia di avventura e la loro immaginazione. E c'ho il riflesso proprio puntato. I quartieri di Ueno e Asakusa erano sede di molti locali di divertimento, teatri di prosa e di operette di cinema, ed erano quindi pieni di movimento fino a tarda sera. I bambini di questi quartieri, già da piccoli, frequentavano questi centri e andavano al cinema di nascosto per vedere i film di avventura. Anche Hiroshi andava spesso al cinema con i suoi fratelli più grandi. C'erano tante cose nuove che stimolavano la sua curiosità, destinata col tempo a divenire sempre maggiore. Durante l'infanzia ebbe un'esperienza che non scordò mai. Nel 1923, quando aveva otto anni, un grande terremoto colpì la regione di Kanto, verso mezzo... quella dei Pokémon. Verso mezzogiorno... Che è quella? Verso mezzogiorno dal primo... Beh, verso mezzogiorno del primo settembre si sentì la prima scossa, a cui seguirono gli incendi che provocarono la morte di 9000 persone. Le case giapponesi del tempo erano fatte di legno, terra e carta, ed erano facilmente infiammabili. Oltre a 9000 morti, ci furono 100.000 feriti, 680.000 case danneggiate e 14.000 case completamente distrutte. I più danneggiati furono i quartieri popolari. Questo disastroso terremoto contribuì a por fine alla democrazia nel paese e provocò un grande dissesto economico che favorì la presa del potere da parte dei militari. La famiglia Maya, colpita da questo terremoto, fu costretta a trasferirsi da un posto all'altro per ben sette volte. Ogni trasferimento Hiroshi doveva cambiare scuola e anche questo contribuì a fargli perdere l'amore per gli studi. Quando aveva 15 anni, un amico di suo padre che era tornato dal sud-est asiatico gli regalò una macchina fotografica a Broni e gli insegnò a fotografare. Le macchine fotografiche cominciavano appena a diffondersi a poco a poco, ma costavano molto e la fotografia non era ancora un hobby come oggi. Probabilmente suo padre intuì subito la sua passione permettendogli di fotografare già a 15 anni. Con in mano la sua prima macchina, Hiroshi sentì qualcosa che non aveva mai provato. Capì che nuove esperienze gli si offrivano e ne era felice. Fu nel marzo del 1930 che feci la mia prima fotografia. Ricordo bene la data perché ho ancora il diario di quel tempo. Fotografai prima i miei familiari, poi i vicini di casa, gli amici, la ricostruzione dei quartieri danneggiati dal terremoto del 1923, la festa della ricostruzione del quartiere di Ueno, il cortè organizzato dal giornale Asai e la sfilata mascherata dei bambini. In luglio di quell'anno andai anche sulla spiaggia Shonai e Oiso. Mi abituai a fotografare la mia famiglia perché è un soggetto facile per i principianti e rimane anche come ricordo. Poi fotografai i vicini di casa e mostrai loro le fotografie fatte per chiedere loro la loro opinione ed essere apprezzato. Poi mi venne voglia di fotografare gli avvenimenti del quartiere, le feste, le celebrazioni. Infine cominciai a visitare posti che non avevo mai visto per fotografare cose nuove. Oggi non ho più né i negativi né le fotografie che feci allora, quindi soltanto con il diario posso ricordare di aver fotografato i quartieri ricostruiti, le feste, eccetera. Se mi fossero rimaste ancora le fotografie che feci, avrei potuto ricordarmi di tutte queste cose e anche delle cose che non avevo fotografato. Ero troppo preso e concentrato nel fotografare le cose che non facevo attenzione a come si svolgessero. Le guardavo soltanto attraverso il mirino. In genere le memorie rimangono vedendo e sentendo le cose tramite i sensi, oggetti, sensi, memorie. Ma nel caso del fotografo la memoria è legata alla macchina, oggetti vista, macchina fotografica, fotografie, memorie. Nel caso del fotografo prevale l'interesse per fotografare le cose piuttosto che il modo in cui si svolgono. Qualche volta la sua visione tende a limitarsi a ciò che vede attraverso il mirino. I primi soggetti che lo interessarono furono gli uomini, poi prese a riprodurre quartieri come Ueno e Asakusa. Grazie a Randonauti. Grazie caro per il follo. Come Ueno e Asakusa dove aveva trascorso la sua infanzia. Le strade piene di movimento con tanti locali. La sua passione per la fotografia lo spense a diventare fotografo professionista. Attenzione. Guarda mi si frizza a mito, non so perché. Az, tecnica superiore della moltiplicazione. Grazie, Randonauti. Grandissimo Randonauti. Se ti si frizza ancora al massimo ci spostiamo su whereby. Eh, rivediamo, vediamo perché non so come mai continui a succedere sta puttanata. Bah, mit del cazzo. Non lo so, vabbè, scusate. Eh, vedi cosa. La sua passione per la fotografia lo spense a diventare fotografo professionista. Finito il liceo a 18 anni, entrò nel dipartimento fotografia dell'aeronautica, allora molto all'avanguardia in quel campo. Nel 1933, presi il diploma e fui assunto al dipartimento fotografia dell'aeronautica. Appena cominciai a lavorare, feci il mio primo volo sopra il quartiere di Ginza, per fotografarlo con una macchina grande. Mi sembrò che sia l'aereo sia la macchina fossero le cose che mi potevano dare la gioia di vivere. Per la prima volta cercai di fotografare così seriamente che sentivo la tensione che era in me e mi convinsi che questa era la mia professione. Ancora oggi la macchina fotografica e l'aereo sono le cose che mi fanno sentire vivo. Durante questo primo volo ebbi una nuova visione del mondo che non potevo avere stando sulla Terra. Ne provai una soddisfazione così grande che decisi di continuare a fotografare in questo modo per scoprire il nuovo mondo. Tre mesi dopo però il dipartimento di fotografia fu sciolto perché svolgeva un lavoro troppo all'avanguardia. What? Fui assunto all'Oriental Photo Industrial Company e in quattro anni di lavoro mi impadroni di tutti i segreti della tecnica della fotografia. Vabbè, la tecnica... Beh, ovviamente, giapponese. Sì. All'inizio del secolo, in Europa e specialmente a Parigi, un nuovo movimento artistico rivoluzionò le vecchie teorie. Esso coinvolse non solo il campo della letteratura, della pittura e della scultura, ma anche quello della fotografia. Menrei, che partecipava al movimento dadaista, e Moholi Nagy, costruttivista e precursore dell'arte cinetica, sperimentarono il fotomontaggio, mentre in Germania si sviluppava il movimento della Neue Sachlichkeit, nuova oggettività. Tutti questi movimenti diedero una spinta rivoluzionaria alla tecnica dell'espressione nel campo fotografico. Molti altri fotografi d'avanguardia, che pensavano seriamente al futuro della fotografia, facevano ricerca su una nuova estetica dell'immagine fotografica con metodo scientifico. E approfondivano la funzione della fotografia, specialmente quella di documentare e di informare. Che leggete? Oggi stiamo leggendo i grandi fotografi... No, no, tranquillo. I grandi fotografi Hiroshi Yamaya. Sono delle riviste vecchie degli anni 80, se non sbaglio. Sì, sono riviste degli anni 80, ognuna incentrata su un fotografo in particolare e stiamo portando questo format, diciamo, per adesso la domenica. Dopo parato. Esatto. Poi di solito invece facciamo interviste, chiacchierate il venerdì sera alle 21, si parla sempre di fotografia e di tutto quello che ci sta intorno, insomma. Un po' alla larga. All'inizio del secolo, in Europa e specialmente a Pari... Informare. Interviste a chi? Interviste a chi? Trovi tutte le interviste fatte sia qui su Twitch che sul canale YouTube. Yes. E comunque a giovani fotografi, oppure anche magari a chi fa un lavoro inerente a fotografia, tipo chi rilega libri, chi fa libri, stampatori, cose così. L'ultima volta abbiamo parlato con due ragazzi che fanno sia foto per lavoro che appunto fanno video su YouTube, quindi sono stati Emanuele Di Mare, Pasquale Torre. Abbiamo parlato con appunto una rilegatrice, che ha Marta, stiamo portando insomma un po' varie persone che lavorano non solo nell'ambito specifico della fotografia, ma come diceva Massimo, tutto quello che ci sta attorno. E quindi così. Tu sei appassionato? Tanto vado avanti così finisco la paginetta. Tutti questi movimenti sorti in Europa e negli Stati Uniti venivano conosciuti in Giappone attraverso le fiste come Photo Times. Ci sono, eh. Ah ok, come Photo Times. Le ricerche venivano classificate come nuova fotografia e tutti quelli che amavano la fotografia, sia i professionisti che gli amatori, erano interessati a conoscerle. Ma non era facile capire bene il significato di questi movimenti e applicare nuovi metodi. Negli anni 30 la fotografia giapponese uscì dal periodo premoderno e cominciò il periodo nuovo. Il movimento artistico che aveva coinvolto tutta l'Europa arrivò in Giappone. Ero curioso di conoscere le idee della nuova fotografia e di vedere le immagini fatte con i nuovi metodi. In esse vedevo la possibilità di un futuro per la fotografia. Per i giovani le cose nuove sono sempre interessanti. I nuovi studi e la forza creativa di Moholi Nagy stimolarono la mia sensibilità. E le poesie di André Breton mi fecero penetrare nel mondo del surrealismo. Vidi molti film d'avanguardia e cominciai a fare ricerche anch'io, anche se non le approfondii. Nel 1937 Man Ray pubblicò un portfoglio intitolato alla fotografia Nepaslard. Lo acquistai e lo lessi. Trovai che il titolo e il contenuto erano molto contradditori. Decisi infine che non mi importava capire se la fotografia fosse arte o meno. Ancora oggi ritengo valida questa conclusione. Da il volto della terra. Negli anni 30 l'occupazione della Manciuria portò alla guerra tra Giappone e Cina. Il destino trascinava il Giappone alla guerra. Mentre io passavo sempre ogni giorno a fotografare come prima. La mia vita era la fotografia. Lavoravo a Tokyo in un ambiente molto attraente per i giovani. Da l'immagine latente. Non sono esperto però l'argomento mi interessa. Beh, sono contento. Siamo contenti che possa interessare un po' la fotografia. Soprattutto che non sia solo quella che si vede adesso. Insomma, ma anche un po' quella che si volta. Un po' di fotografia un po' più, diciamo, di nicchia adesso. Ma quella che è stata in realtà la storia della fotografia. Beh, l'introduzione è stata abbastanza corta questa volta. Rispetto all'altra volta che... Sì, anche abbastanza... Sì, l'altra volta è stata lunghissima. Lui ovviamente è pazzo. No, è pazzo no. Però sì, visto che parla del fatto che lui fa la passione per l'aereo. In effetti ci sono un sacco di foto fatte dall'alto. Infatti non capivo se fosse semplicemente perché erano commissionate o qualcosa. Ma effettivamente ci sono un sacco di foto dall'alto. Però non fa solo questo tipo di foto qua. Dopo c'è anche un po' di documentazione di persone, tra virgolette. E poi tutte col bordo bianco. Col bordo nero. Ok, giustamente. Bordo nero... Sappiamo che... Hiroshi Yamaya sapeva... Sapeva già... Eh, il bordo nero... Poteva valere. Esatto, esatto. Per non dire altri brutti termini. Esatto. Bene. Questo è il Monte Fuji. Shizuoka Yamanashi. Ma va là? A quanto pare sì. Non so che parte del Monte Fuji. Sinceramente. Ma pensa a te. Però, sì, guarda che bella la cupoletta sopra di nuvola. Siamo abituati a vederlo nei cartoni animati. Sì, esatto, che è un dritto così. Esatto. Dritto, proprio. Fiero con la neve sopra. Grigio con la neve, basta. Grigio con la neve, sì. Perché è da lontanissimo. Quindi è azzurrino grigio con la neve. Esatto. A fianco c'è il Monte Tokashi. In Hokkaido, Giappone. 1962. Anche la seconda è fatta dall'aereo? Eh, penso proprio di sì, sai, perché è dall'alto. Sì, sì, sì. È pazzesca, tra l'altro. Cioè, con tutti i nuvoloni giganti. Sembra una macro in 3D, tipo. Cazzo, è veramente incredibile. Sto controllando che non si vedano tanti aloni. Monte Zao, Yamagata, sempre in Giappone. Questa con la neve è pazzesca. E a destra, Fu Renko, in Hokkaido, del 63. Proprio come si facevano le foto aeree un tempo, lui le faceva... Chi sei col drone? Semplicemente, esatto. No, esatto, come si fanno le foto col drone, lui le faceva... Lui le faceva con la macchina gigante, probabilmente questa... Sì. Sarà un 6-7, perché c'è il bordo nero. E questo è... Penso sia un 6-6... No, forse è un 4,5-6. Grazie a Valero Vittorio Foto. Grazie. Grazie del follow, caro. Ti becchi anche... Ciao, carissimo. Ti becchi anche, tac. Bresson che fa la foto, tac. Bresson che fa la foto, tac. E... Tiamo anche un bel comando vocale per far capire che ci sono. Ce ne sono solo pochi, però vabbè. E' come nelle grandi storie, Padron Frodo. E' come nelle grandi storie, Padron Frodo. Ecco. Sì, sì, beh, lui era un classico dronista. Un precursore dei... Un precursore del dronismo. Della corrente. Eh, queste forse non sono fatte con l'aereo, queste qua. Anche se non sono sicuro. Non sono del tutto sicuro, ma... Però boh, vabbè, stica. Sì, perché io purtroppo le vedo lontano e... Eh, lo so, però... Posso zoomarle e al massimo se sono verticali le zoom un po' indietro. Sì, sì, esatto. Ecco, facciamo così. Così queste qua si vedono... Ecco, così già mi piace di più. Oh, attenzione, arriva una domanda importante. Come mai Lama Lab? O come mai generico? Nel senso, tipo, come... perché? Così, perché la vita... O come mai il nome, sì, sì, chiaro. Ah, il nome, ah, ok. Sì, 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 avevo capito. Allora, la dico io, sennò tu piangi? Sì, sì, esatto. La dico io, racconti io la triste storia. Possiamo mettere una musica triste? Grazie. Grazie Luca Lequac. Allora, scusa un attimo che metto un po' di musica triste. Crack, Besson, sempre. Musica triste. Sed, piano, music... Non ho copyright, grazie. Ogni volta c'è da scrivere un titolo. Ah, sei minuti penso che bastino. Vediamo. Allora, eccola qua. Buongiorno, caro. Dovete sapere che... a fine 2019 io, Massimo e Michael avevamo quest'idea. Un'idea folle. Folle! Un'idea incredibile. di creare un laboratorio. Di aprire il nostro... Sto già piangendo. Un laboratorio, studio in cui occuparci sia di fotografia analogica che digitale. In tutte le sue forme. Quindi nello sviluppo, nella stampa, nello scatto, nell'offrire servizi e dare un sacco di cose molto interessanti e molto di nicchia che potevano essere appunto rivoluzionare nel mercato italiano. Non scendo nei dettagli perché c'è il copyright su questi lavori sono nostri. Non si sa mai. Ovviamente ci siamo imbarcati in questa... in questa... in questo problema, no? Di aprire uno studio dove, come, quando, con che soldi, perché, chi ce lo fa fare, la partita live, eccetera. Quindi abbiamo fatto un mese, due mesi, tre mesi di studi, di business plan, di fondi, di controllare quanti soldi farci pagare, cosa offrire. dopodiché abbiamo deciso che, vagliate tutte le informazioni, parlato con i commercialisti, eccetera. Ho soprattutto parlato con i commercialisti. Ho soprattutto parlato con la mia commercialista. Che ha detto che... Che ha detto ragazzi. Che con i ragazzi siamo nel 2020, nel 2019. E allora noi abbiamo detto vabbè, accantoniamo l'idea intanto. Non c'è bisogno di correre, accantoniamo. Mi ha detto, piangendo tutti e tre ovviamente, abbiamo preso in mano il coraggio, abbiamo detto guardiamo in faccia la realtà e non lo facciamo. Dopodiché c'è stata la pandemia. Questo è quanto. Posso avere un... Non lo chiedo, lo dico direttamente io. Lo faccio direttamente io. È come nelle grandi storie, Padre Unfrotto. Esattamente. È come nelle grandi storie. Ora che abbiamo affrontato questo peso, che per noi è ancora una ferita apertissima, devo dire, tutt'ori, tutt'oggi, tutt'ora e tutt'oggi, andiamo avanti con delle foto col drone. Mi spiace un sacco. Eh, lo so, non importa, vabbè, non si sa mai comunque. Siamo giovani arzilli e abbiamo... Non dico, non dico niente, stavo per essere un po' volgari. Però vabbè. Più che altro poi siamo anche lontani, cioè io sono di Venezia, loro sono dell'Emilia, quindi aprire uno studio voleva dire tipo io mi dovevo trasferire e... Sì, era, insomma... Non sarebbe stato comunque il periodo storico migliore, devo dire, abbiamo avuto un po' curva. Sì, a pensarci adesso è assurdo. Io di Padova, ecco questo. Siamo vicini. Cioè, a pensarci adesso, pensa se avessimo aperto, veramente. Siamo molto vicini a Padova, all'Islanda. Eh, sì, le foto... Ah, no, queste sono in Giappone, penso che questa è una foto un po' islandese. Anch'io Veneto, eh, vedi? Qua si spande. Noi dobbiamo fare un poll, vedere quanta gente è di Veneto e Emilia. Sì, sì, vicino all'Islanda, esatto. Fa freddissimo adesso. Però vedi, non devi neanche prendere l'aereo, sei già là. Quindi perfetto. Dovremmo vedere quanta gente è emiliana, quanta gente è del Veneto, perché... Comunque, beh, c'è andata bene. Probabilmente, ora c'è... di Emilia c'è pochissimo. Ebbè, sì, noi siamo ancora... Beh, perché siete pochi? Sono pochi i nostri follower emiliani? Dici? La mia chatta al 60-70% è Veneta. Twitch è piena di Veneti, confermo. Confermo. soprattutto perché siamo in zona arancione, probabilmente. Sarà la zona arancione che ci tiene tutti a casa, quindi... Probabile, va a sapere. Arriva. Ci sono comunque... Ecco qua, beh. Dai, continuiamo a sfogliare un po'. Questo è Fukui, sempre in Giappone, questo è Miyazaki. Per fortuna si può bestemmiare su Twitch. Sì, sì, forse è per quello che è pieno di Veneti, Twitch, sai? Sì, infatti. Qualcosa mi dice che c'è una correlazione. Ho i capelli e i lunghissimi, dopo mi raso a zero. Cristo santo. Oh, le isole Fiji. Queste foto le avete fatte voi? No, ma figurati, no, no. No, beh, magari. Questa è una rivista di Roshi Amaya, è una rivista degli anni Ottanta, e stiamo portando questo format in cui, visto che abbiamo molte riviste dell'epoca, leggiamo e sfogliamo queste riviste, che secondo noi sono comunque interessanti, perché sono tutte incentrate su un singolo fotografo alla volta. No, figurati, tranquillo, tranquillo, non ti preoccupare. sono contento che sia interessante, comunque. È una cosa che stiamo portando, ci piace, insomma. Sì. Sia su Instagram, sia qua, ci fa piacere parlare un po' di fotografi vecchi, farli conoscere anche per noi in realtà, perché comunque... poi una cosa che è tipica di Amaya è questa qua. Il fatto che lui ha sempre un bordo della foto rovinato, non so perché, c'ha proprio questo tipo qua, questo non ho capito se è tipo l'emulsione o qualcosa che ne è andato male, ma anche qua ce l'aveva tipo, c'è un bozzo sulla foto, vabbè, comunque. Australia occidentale, è molto, molto, molto minimale, non minimale, molto geometrico, volevo dire. Mi piace che bella. Ayer's Rock in Australia. Bellissima questa qua. Questa non ho capito. Qua è di sinistra? Sì, sì, stavo pensando, stavo guardando se questi puntini era la rivista o era la foto, credo sia la foto. Sì, no, le foto sono incredibili comunque, cioè le foto a me piacciono tantissimo. Peccato che Mike se le perda. No, anche perché non, cioè in questo caso si vede che non utilizza comunque grand'angoli, roba molto spinta. No, infatti. Ma molto sul dettaglio e anche sul punto la, la geometria. Esatto. Anche come vedete la prima, la prima foto, cioè non è mica. Sì, sì, no, quella a sinistra è diversa comunque Luca, non è la, non è la, cioè non è la stessa foto. Seconda pagina. Seconda pagina. La sinistra. Seconda pagina. Oh no, forse intende quella lì come, ah no, quella del monte Fujiforz, cioè che sembrava. No, questa qua non si è ancora vista, questa qua, si vede dopo mi pare. O se no, quella del monte Fujiforz, avevo visto una foto molto piccolina. Ah, scusa, sì, questa qua, questa qua. Ah, sì, esatto, quella lì, sì, sì, esatto. E poi tra l'altro questa qui è quella che c'è come poster, che io ce l'ho, quella in copertina dovrebbe essere quella che c'è il poster, che ce l'ho, non so in quale rivista sia, perché l'ho messa tutta e penso nella rivista dei fotoamatori, quella sarà da ridere, da sfogliare. Mamma mia. Quella sarà incredibile. E lì ho messo tutte le varie cose che ho trovato nelle riviste. Anche questa qui, i pinguini, nelle isole Falkland, nel 78, e questo è il rio delle Amazon in Brasile, vabbè, cioè, pazzesca. Cioè, pensa poi tra l'altro lì fotografa appunto, faceva queste foto con la pellicola, poi tornava a casa e scopriva se venivano fuori queste qua, quei fulmini, perché, non è come adesso che le vedi, le altre, vabbè, le altre dici ok, è più facile. Ce l'ho fatta. Sì, esatto, e qua dici boh. Portata cosa alla pagnotta. Esatto. Poi, cioè, è assurdo perché passa da dei colori completamente assurdi, tipo questa qua, Valle della Morte in California, che è tutta verde, è tutta, nera, cioè, non la vedete, ma è nera verdastro, sì, si vede, è nero verdastro, cioè, è proprio così la foto, non è l'inanciamento strano. Quella a destra, il Green River ne lo aiuta, ha dei colori folli. Tra l'altro, cioè, è stortissima, se ci guardi. Sì, c'è l'orizzonte, è proprio... Ma sì, c'era in aereo, figurati. Con sempre quel bozzo. Eh, quel bozzo, allora, credo che sia la roba dell'aereo, sai forse. Eh, sicuro. Sarà, perché mi pare strano che ci abbia dei bozzini. No, ma sicuro, sicuro, c'è qualcosa che è dell'aereo per forza, perché... Comunque, no, è incredibile queste foto. Anche qua, questa ha dei colori un po' astrusi, lago Powell. Sempre perfettamente storta, che la gente adesso in orri... cioè, la gente impazzirebbe. E effettivamente ha perfettamente lo stesso angolo. Ops, mi si è frizzato un attimo. Ha perfettamente lo stesso angolo. Anche qua, così. E qua è identico, proprio grandissimo. Zero post-produzione. È la post-produzione che si poteva fare in camera oscura, quindi, sì, in stampa, più grande. Qualcosa comunque c'è, perché in camera oscura potevi fare post-produzione, e quindi, qualcosina secondo me avrà fatto. Sì, 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 qualcosa di sicuro. Poi ovviamente non tocchissimo. Anche solo tre colori. Sì, sì, esatto. Canyon Land, nello Utah, questa è altissimo, questa penso sia proprio perpendicolare. Non c'è scritto che macchina usava. No, la Bronica? Non so se... No, non era Bronica. No, usavo una Bronica all'inizio, ma non credo... All'inizio la Bronica. Questa non so. Ma forse c'è scritto alla fine, però non c'è scritto. Io credo che fosse una 6... 6... Cos'è? Come si cazzo si chiama? 4,5 o 6. Perché le foto mi sembrano più, lunghe del 6,7. Vediamo se ne trovo qualcosa su internet. Hiroshi. Eccola qua, questo è il Lago Louise in Alberta, in Alberta, ad Alberta, in Canada. Questa è quella della copertina. E questo è il Bering Glacier in Alaska. Tra l'altro, dopo dobbiamo farla vedere, una foto di lui, perché è... Sì, 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 assolutamente. Io vorrei troppo fare una live dove guardiamo le foto, dove guardiamo Araki. Cioè, Araki... È veramente nato nel periodo sbagliato. Sì, sì, sì. Vabbè. Comunque, questa è storia dall'altra parte, però, vedi. ha voluto cambiare. Sì, diciamo che non c'erano tanto, cioè, contando anche l'età in cui si facevano quelle foto, non è che dovevi stare tanto a mettere in più. Che poi lui comunque... Sì, ma che poi lui, cioè, non le raddrizzava nemmeno in post, perché comunque... Era, infatti... Era proprio una cosa che lui piaceva il fatto, credo, a questo punto, il fatto di proprio volerle fare col bordo nero e quindi mantenere tutto come faceva Bresson, e quindi per far vedere che non le croppava. Sì, quelli in aereo, sono storti e tutto, ma in tutto il resto ha una composizione perfetta, quindi... Sì, sì, cioè, è comunque tanta roba, in senso. Quindi, cioè, non sono croppate, non sono... non sono ritagliate, non sono raddrizzate, sono proprio così, perché hanno il bordino nero, quindi vuol dire che sono i negativi originali. Ma lui dice... Qua c'è scritto che utilizza... utilizzava Laika. Ah, sì? Ma questa però non è due terzi, però questa... Laika 1, Laika 3, a meno che non fossero messe in posti i bordi neri, ma mi sembrano proprio quelli del 3. Per quelle di Paisaggio utilizzava qualcos'altro, può essere. Sì, anche secondo me, secondo me quelle là le usava per le foto che vediamo dopo, quelle di documentazione. Queste qua, secondo me, usava medio formato. Penso, cioè, dal formato mi sembra un 6,5, un... sì, ciao, un 4,5 o 6, perché è più lungo del 6,7. Quindi mi sembra proprio quella roba là. Però, boh, sai. Groenlandia e questa qua pazzesca dell'Islanda. Sì, questa è zona vicino a Padova, appunto. Avevano uno scopo preciso? Non so se sono commissionate, può essere, nel senso che, non lo so. C'è scritto poco, in realtà, sulla sua vita. Ops. Attention. Eccolo qua. C'è scritto poco sulla sua vita, quindi in realtà non c'è scritto se... Cioè, penso che fossero tante commissionate, comunque, ma non sono sicuro. Non è detto che... Cioè, non c'è scritto, quindi forse alla fine e magari c'è scritto. Però credo fosse proprio foto sue che poi lui vende... Cioè, lui faceva queste foto probabilmente e poi le vendeva alle riviste. Sì. Probabilmente, come metà dei fotografi facevano, tipo quando si faceva paesaggio, quindi. Questa è sempre Islanda, Vatna, Jokul e Algeria. Il Sahara. Bella quella del deserto. Madonna. Molto bella. Per parte del fatto che nel deserto è easy, cioè... Sì, la foto viene tutto bene. No, poverino, senza... Sì, 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 è. Anche questa Sahara, questa folle, questa qui, sta completamente spaziale. Mi piace per il deserto. Questa cosa è? Questa è Sahara, sempre. Parca. Quindi probabilmente... Sembrano disegnate, sì. Quindi questa probabilmente è... Che qua, l'orizzonte è storto. Qui è probabilmente l'alba oltre a mondo. Probabilmente l'alba, credo. Qui c'è un bozzo, ma questo che... Non so se... Questo rosso. Chissà. Un'infiltrazione. Esatto. Il Monte Everest. Questo è un po' più classic, forse. Sì, esatto. Questa forse è addirittura molto più... Attuale. Sì, esatto. Un po' classicona, devo dire. Però, sai, per l'epoca con l'aereo. E qua c'è un po' più di documentazione, invece. Oh, fa vedere. Devo allargare un po'. Sono curioso. Eccolo. Sì, qua, 35 mm per forza. 135 per forza. Ecco qua. Ma che roba, quella è verticale. Sì, sì, sì. Cioè, sono folli. Allora, questa a sinistra è il Festival del Fuoco in occasione del nuovo anno a Niigata in Giappone. Con queste long exposure. E poi a destra c'è Donna che pianta il riso, sempre in Giappone. Bianco-nero, bello, di quello bello che piace a me. Turgido. Grezzo. Sporco. Attenzione, un attimo che mi è partito Max. Ti do il link di Whereby, andiamo su Whereby. No, il link di Whereby prima che spacco qualcosa. Allora, aspetta un attimo che stacco. Ecco. Non ci vedete per un attimo. Non ci vedrete per un attimo, ma arriviamo, ragazzi. Joins. Ti do il link di Whereby. Beh, il link è sempre questo qua. Te lo mando in chat qua su Meet. così così Meet capisce che ci stiamo anche spostando. Ci sono. Perfetto. Allora, io chiudo qua. Eccolo qua. Perfetto. Allora, adesso, se io metto Whereby così, vediamo un attimo. Whereby. ok, ok, un attimo, però, perché siamo tutti spostati, devo, vedere la chat? No. Un attimo, è che devo capire come buttarci dentro. Ti chiedo umilmente scusa, non so perché. Facciamo così. No, tranquillo, figurati. Oh, mi dà fastidio ste cose. Eh, lo so, però non so, ogni tanto parte. Eccoci qua, ragazzi, ci siamo. Siamo tornati. Porca troia. Motherfudder. Motherfudder. Adesso sono specchiato. Cioè, adesso sono, no, adesso sono dritto. Qua si legge Quechua, sponsorizzato. Ringraziamo. Ringraziamo lo sponsor. Tu te ne fotti dello sponsor. Mi diceva il maestro. Mike, buongiorno. C'è bocca. No, no, ma per scherzo, per scherzo, in senso figurato. In scherzo. Eh, si può dire, penso, ma in senso figurato. Questa è Akita, in Giappone. Questa a sinistra, che penso sia sempre l'Erisai, io non so bene come funziona. Non credo, anzi no, perché non sono nell'acqua. Ho solito una cazzata. E questa è Yamagata, Giappone. 55, queste qua, tutte e due. Foto degli anni. Qua, bordino nero, comunque, sempre. Akita, Giappone. E, uomini che guidano slitte, a Omori, Giappone. Pazzeschi. Vediamo se riesco a zoomare mai su queste qua un po'. Va, che roba. Pazzesche, comunque. Che bianchi e neri, madonna. E qua, sì, devo zoomare indietro. Qui, cosa c'è? Nigata, non c'è molta descrizione, devo dire, è molto, molto diretto. rispetto all'altro... Molto diretto. Questa sinistra è nigata, in Giappone, sempre. Ma che belli però. Bella. I bambini con, con le robe di paglia, di paglia, sub addosso, intrecciati. e a sinistra, e a destra invece, è rasatura. In Canton, in Cina. Nel 1956. Immagini di quotidianità. Esatto. Questa a sinistra mi fa impazzire, comunque è bellissimo. Ah, bellissimo. Pescatore che arpiona un pesce a sinistra, in Hokkaido. Ah, quello è l'arpione, quindi questo... faccia. Il bastone allungati di Goku. Eh sì, infatti si vede, no? Questo qua è l'altro arpione. Cioè, si vede... Quale? Eh, questo qui, guarda. Ah! Questo qua è l'altro arpione, Guarda qua. Infatti c'ha tre punte, fatto tipo ad artiglio, quello del... Pazzesco, sì 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 sì, ho capito, vacca boia, sì. Invece qua c'è tuffatrici della regione fredda. Comunque si vede che da buon pa... da bravo paesaggista aveva tutto il suo rigore, tutta la sua precisione, terrà lasciando appunto le foto quelle dove l'orizzonte è storto, che in aereo hai... Vabbè, lì c'è che cazzo vuoi dire. Devi fare... Devi ricordarti anche che sei negli anni 80. Quella a destra mi fa spaccare perché è tutto mosso, tranne la persona che salta. Eh, infatti, immagino. Quindi vuol dire che lui effettivamente stava muovendo la macchina mentre scattava con lo stesso movimento del tizio, cioè della tuffatrice. Ti dirò, le belle quelle di paesaggio, ma forse queste sono ancora un po' più... Eh, queste sono veramente spaziali. Che poi vedi, cioè, non ha niente di che, nel senso tu sei lì a fare foto alla quotidianità, non c'è nulla di... Sì, sì, ma... ...aiuto di così astruso, eh. No, 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 ma infatti sì, non sono sensazionalistiche come forse. Nel senso che molta gente si fa mille e mille domande su cosa ricercare e quant'altro quando alla fine si può iniziare tranquillamente sul ricercare, sull'immortalare la quotidianità. Ma credo che alla fine la gente pensi cerca le robe più... più assurde semplicemente perché poi devono farlo diventare un... un modo per prendere soldi dopo. Sì, infatti. È difficile che uno si metta... Cioè, è più facile che uno si metta a fare ritratti che paesaggi, perché facendo ritratti è più probabile che... ma poi c'era molto più... Ovviamente è un generale, non è per... È vero che erano anche anni diversi, c'era molta più spensieratezza, cioè... Sì, sì. Sì, beh, adesso come adesso è un po' più... Cioè, c'è un po' più bisogno forse di soldi. Cioè, all'epoca aveva che ce n'erano meno, ma valevano di più. Eh, sì, era molto... Era proprio diverso tutto. Ecco qua, foto... Semi paesaggi, in realtà non è paesaggio... Cioè, qua ci sono delle persone. Messo l'Hokkaido. Sì, Hokkaido e basta, 59. e operai che trasportano il riso a Bangkok, qui in Thailandia, nel 60. Ah, ok, quindi andiamo pure più indietro, non anni 80. No, no, siamo molto più indietro, sì, sì. Ah, cacchio, cacchio, allora ha ancora più da rimarcare questa cosa. Sì, poi appunto, essendo che lui cioè, è appunto giapponese, quindi fa vedere proprio le zone nazi. Sono giapponesi. Riserva indiana, Navajo, Navajo, Monument Valley, in lo Utah, quindi anche in America, tra l'altro. Questo è nel 67. Ma che bello è questo che è. Sta pazzesca. Perfetto. Ste cazzo di riviste che stampano sulla doppia pagina, Cristo, va bene. Un frigo in giardino. E beh, sai, nelle riserve, penso fossero le riserve indiane, comunque. Avevano... non avevano neanche la casa, probabilmente. Esatto. Già tanto che hanno un frigo, probabilmente l'hanno raccolto da qualche parte. Probabilmente esatto, dentro ci sarà qualcuno, non lo so. Sì, sì, dentro ci sarà tutto, tranne che roba che va in frigo. della legna, cioè. Sì, sì. pazzesco però. È bello perché comunque si vede, cioè c'è sia la parte qua davanti, però c'è anche, cioè vedi anche le rocce del, appunto, di tutta la Monument Valley. È molto... cioè le rocce, sì, sono proprio rocce, sono un po' più grandi di rocce, però insomma, bello, cazzo. Questa è un po' classicona, ma va sempre bene. Città del Vaticano nel 69, questa. Te lo volevo dire, tipo, vuoi vedere che in Vaticano lì ha San Pietro? Infatti sembrava molto, molto italiana come cosa. Questa proprio, vedi, per dire che la gente si inventa, cerca di inventarsi le foto della vita quando... Che questa fa 50 anni fa. E a destra è Gran Bretagna, le isole Aran e lo solito orizzonte stortissimo. Cavolo ragazzi, non aveva un problema serio con l'orizzonte. Che non mi piace, che non mi piace così. Va che bella però, la parchetta. Impennatissima tra l'altro, la barca. Non so se si vede. Mi sembra, la vedo poco, ma mi sembra bella impennata. Impennatissima. Ma che roba. E la... Cioè, e va a reni, quindi pensa, cioè, pensa che questi o hanno preso una... Non ci sono neanche troppe onde, quindi questi stanno proprio... Cioè, hanno preso un'onda, ma l'hanno proprio presa velocissima. Cioè. Ma potete mostrare le foto che avete fatto voi? No, no. Cioè, in senso, no. Non adesso, in senso, volendo, sì, ma... Ti trovi comunque sui. profili. Su Instagram. E oggi parliamo di... Della nostra pagina di Lama Lab ci sono anche i nostri profili. Cioè, Instagram, c'è il sito web dove ci sono foto nostre, le cartoline che vendiamo, c'è un po' di roba. Kathmandu in Nepal, nel 74. Dopo comunque, alla fine, se vuoi, possiamo far vedere... Ecco, guarda, grande. Orizzonte storto, ma barca dritta. Attenzione, Napoli. È arrivato esatto, vedi? Yes, Napoli, sì. Orizzonte storto, ma è a barca dritta. Qui c'è Kathmandu, in Nepal, nel 74. Penso sia l'iso, anche qua. Tipo mercato, credo che sia. Comunque, il bordino nero non manca da nessuna parte. ragazzi, c'è... Che matto. Troppo bello. La Paz, Bolivia, 78. E isola Hardley, in Antartida. Comunque, fai girare, è girato, ragazzo. Minchia. Ma che bella che è questa qua. Questa è folle. Isola Hardley. Bello, bianco e nero, proprio senza il grigio, proprio. Sì, proprio quelli, proprio che chi se ne fotte. Mi piace a me. E non quelli che ti fanno le pari su tutta la scala dei grigi. La scala dei grigi non deve esistere. Ma cosa cazzo? Guardi, trovo già qua, ci sono troppi grigi qua. I grigi li lasciamo nell'area 51. Un uomo sost... Ah, qua c'è una descrizione poetica. Quel bordino nero a me pare grafica. Sai che non credo? Perché su alcuni punti è tanto in cioè impreciso. Tipo qua. Qui è molto impreciso. Cioè, fa sembrare proprio il bordino che ritagli... Non lo so. Cioè, potrebbe essere, però mi pare strano. So che li aggiungevano anche, però mi pare strano che... Boh, nel senso mi sembra, sì, un po' stranino come... Poi può essere, nel senso... Può benissimo essere. Però comunque non manca mai. Soprattutto, cioè io penso se metti il bordino nero, a sto punto raddrizzi le foto. Pensa che negli anni 80 non c'era Photoshop, quindi sarebbero comunque fatti a mano. Sì, 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 sì. Esatto. Sì, sì, assolutamente sì, lo so. Però, lo so. pare strano che metta il bordo nero su una foto... Cioè, e la ritaglia storta, per dire, perché questa è storta, no? Che all'epoca... Cioè, non dico che rompevano un po' il cazzo, rompevano un po' il cazzo adesso. Ah! Questa è bella. Il grandangolone, dai. Sì, 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 anche qua. Si è fatto un po' prendere... Ma si vede che sono belli allungati i sassi. Questa è del 79, comunque, già un po' più avanti. già più... Sì, già più un po'... Ah, ha scoperto i grandangoli. Eh, questo è un po' più National Geographic, sai che... Ha scoperto il grandangolo, ha detto... Ah! Ah, sai che... Eh, però bella, però comunque bellissimo. Sì. Ah, aspetta, un uomo sosta presso un desolato e vecchio cimitero. Gianè, in Algeria. Ah, quindi qua vicino c'è un cimitero... Questo è un cimitero? Sì, c'è un cimitero. Presso un desolato. Presso. Ah! C'è una montagna di rocce. Pazzesca. Ah, siamo già in The Conclusions. Oh! Magari così sappiamo di più di questo... Oh, adesso si, si, si legge. Vacca boia. Bene. Stiamoci sulle maniche. Facciamo vedere i tatuaggi cattivi. e leggiamo. Guarda che metto a posto qua. Ok. Attraverso la natura, la scoperta dell'uomo. La seconda metà degli anni 30 fu un periodo pieno di avvenimenti nel campo della fotografia. Nel 1936 furono stampate 380.000 copie della prima edizione di Life e all'ottava edizione si arrivò alle 760.000 copie. Nel 1937 uscì la prima edizione di Look con una tiratura di 835.000 copie che toccarono i 2 milioni alla 18esima edizione. Per rispondere a una tale richiesta di riviste da parte del pubblico vennero pubblicate foto, photo history, eccetera, una dopo l'altra e il numero totale delle copie delle riviste fotografiche mensili superò i 20 milioni. Cominciò così il periodo del giornalismo fotografico. E sotto? Bato. La passione per il giornalismo fotografico arrivò anche in Giappone dove uscì la rivista Graphic. L'editore di questa rivista assunse alcuni fotografi della nuova generazione sfidando il giornalismo tradizionale. Nel 39 Hiroshi Amaya andò per conto di questa rivista Takada, cittadina di montagna, per fotografare le esercitazioni invernali degli alpini. Durante questa prima esperienza di lavoro come fotoreporter si rafforzò in lui la convinzione che questa era la sua strada. In questa occasione incontrò un giovane studioso di folklore e questo incontro fu decisivo per il futuro di Amaya. Gli alberghi davanti alla stazione erano coperti di neve e avvolti da una pallida luce. Passai attraverso strade scure chiuse tra muraglie di neve e mi recai all'albergo del centro. Era tutto diverso da Tokyo dove di notte dominavano le luci e le luci al neon. Lì dominavano il buio, il silenzio e la neve che opprimeva la città, le strade, le case e la gente. Il freddo rigido ma trasparente mi faceva sentire stranamente il calore del mio corpo. Per due giorni segui i soldati lungo un percorso di 36 chilometri sulle montagne coperte di neve. Sapevo sciare ma seguire le marce con gli scarponi da neve era molto faticoso. Mi meravigliai così tanto della grande differenza tra Tokyo e una cittadina come Takada che decisi di restarci ancora per qualche giorno dopo che ebbi terminato il lavoro dall'immagine latente. Un anno dopo Amaya tornò a Takada poi si recò nel paesino di montagna di Niigata per fotografare le feste tradizionali degli abitanti durante il mese di gennaio accompagnato dal suo amico studioso di folklore di cui non si sa il nome erano best friends non si capisce era il suo amante era il suo BFF studioso di folklore di lore. Osservando gli abitanti di un paesino di 25 famiglie capì la profondità e la ricchezza della loro vita spirituale tutta pervasa da una ricca tradizione. In un piccolo paese non fertile come il Giappone i contadini hanno sempre faticato per rendere più fertile la loro terra e avere raccolti migliori. Essi hanno sempre avuto bisogno di rivolgere preghiere a Dio affinché i loro raccolti fossero abbondanti. Le numerose feste contadine che si fanno in Giappone ogni anno testimoniano appunto le difficoltà che i contadini hanno sempre dovuto affrontare. In passato il costume è cambiato sia positivamente che in modo negativo. Per favorire il progresso a volte si sono sacrificati valori e tradizioni molto antichi. Bisogna essere molto prudenti affinché questo processo di modernizzazione non distrugga completamente i vecchi valori. Lavoravo sempre tenendo conto dell'importanza della funzione documentaria della fotografia e sentivo il bisogno di documentare valori fondamentali per la formazione dell'uomo. La struttura sociale si trasforma a seconda di come cambia il modo di pensare dell'uomo ma questo non deve alterare completamente le tradizioni. Specialmente per gli abitanti di un paesino lontano dal progresso è forte l'attaccamento alla tradizione. Vivono tranquillamente e la loro vita scorre in una maniera sempre uguale secondo le vecchie usanze da paese di neve. Scattando le fotografie documentari in questo piccolo paese tenendo presente il metodo degli studiosi di folclore Amaya scoprì l'anima stessa della fotografia. Forse è meglio dire che trovò il cuore dell'uomo. Il modo di vita dei paesani lo colpi così profondamente da costringerlo a rivedere la concezione che si era fatto vivendo in una metropoli come Tokyo. Ma Tokyo non va con la Ypsilon? Eh sì. Ok perfetto. E' da prima che continua a dire Tokyo e dico ma c'è qualcosa di sbagliato visivamente in Tokyo come lo sto leggendo. Bellissimo. Per dieci anni anche durante il periodo difficile della guerra continuò a tornare al paesino lontano da Tokyo. Forse ci andava per ritrovare la tranquillità della vita in un periodo oscuro di guerra e si convinse che la fotografia è il mezzo più efficace per documentare i fatti. L'uomo inventò gli utensili arricchì le parole cominciò a godere la musica e inventò la scrittura. Sviluppò questa cultura e la divise in vari campi che si sono tramandati fino a noi. La tradizione e i documenti sono la grande eredità degli uomini da il volto della terra. Ma spesso questi documenti non ci raccontano la vita del popolo. La storia che studiamo a scuola ci racconta la storia dei re, dei nobili, degli uomini di potere trascura di raccontarci come viveva, pensava, soffriva al popolo. Per questo Amaya puntò la sua macchina sul popolo per fotografarne la vita. L'obiettivo che gli puntava su questo piccolo paese di montagna si allargò a tutta la zona sul mare giapponese, quindi agli abitanti dei paesi di questa zona. Dal 54 al 57 per 4 anni viaggiò da nord a sud, da Aomori fino a Yamaguchi. Si accorse che nei paesini più difficili da raggiungere la gente viveva ancora nel passato, si sentiva la storia. Più paesi erano difficili da raggiungere, meno gli abitanti erano stati toccati dal progresso. Nella seconda metà di questo secolo il Giappone risorse. La sua capacità di recupero, la sua ripresa e il suo sviluppo dal punto di vista economico e industriale furono meravigliosi. Tokyo era il simbolo di questa resurrezione miracolosa e diventò una città fastosa e vanitosa con tanti edifici, traffici e troppa gente. Da questa Tokyo scappavo col treno di notte per andare nei paesini sul mare giapponese. Il treno mi portava dalla città miracolosa del ventesimo secolo al paesino in mezzo al miracolo del diciottesimo secolo. Mi meravigliavo di trovarmi nella città di duecento anni fa. Nel paesino lontano si ritrovava la via del Medioevo, la sua organizzazione, i metodi primitivi di produzione. La distanza creava il ritardo nello sviluppo civile e questo fenomeno era particolarmente vistoso nella zona sul mare giapponese. Gli ostacoli per lo sviluppo della civiltà nella zona sul mare giapponese vengono dallo stretto legame alla tradizione e alla natura. Questi due elementi, la tradizione e la natura, agiscono fortemente sull'uomo. Per conoscere meglio la vita degli abitanti di quella zona bisogna conoscere il rapporto tra la gente e la natura dalla costa del Giappone. Allargando la sua visione da un piccolo paese di montagna alle città e ai paesi di tutta la zona sulla mare giapponese e studiando il loro diverso passato, la tradizione e la natura, Hiroshi Amaya si accorse dell'enorme importanza del rapporto tra l'uomo e natura. La parola natura ha vari significati, natura, configurazione della terra, paesaggio e clima. Noi viviamo nella natura che ci circonda e la nostra storia ha uno stretto rapporto con essa e l'uomo e la natura si influenzano reciprocamente creando gli elementi naturali e umani della vita. Il Giappone si trova nella zona dei Monsoni. La sua natura è determinata da molti elementi. L'arcipelago si estende da nord a sud e il clima cambia a causa della corrente monsonica e dell'umidità. Gli antichi giapponesi studiarono la natura per avere un buon raccolto e riuscirono a coltivare sia le piante tropicali sia quelle dei climi freddi sia il riso che il grano poiché la loro vita era strettamente legata alla natura. Sentii quindi il bisogno di conoscere la natura per conoscere bene l'uomo dall'arcipelago giapponese. Aveva 25 anni quando visitò per la prima volta quel paesino di montagna e cominciò a dedicarsi a uno dei temi principali il rapporto tra l'uomo e la natura. A 42 anni finì di fotografare questo tema nella zona del mare giapponese quindi cioè tipo quasi 20 anni sì 17 anni di lavoro in pratica. Il mondo stava cambiando e durante quel periodo anche grazie al suo lavoro Amaya conobbe Daigaku Ariguchi e altri artisti intellettuali. Andò per la prima volta all'estero in Manciuria lavorò per un breve periodo presso Tohosa l'editore che pubblicava la rivista dell'informazione sul Giappone per i paesi esteri fu arruolato in marina ma venne congedato fortunatamente una settimana dopo beh onestissimo comunque in pensione con la pensione da 150.000 yen andiamo per il grande impegno cacciato alla marina esatto beh ad onore l'hanno cacciato praticamente il giorno che finì la guerra appena lo sei più usci di casa e senza pensare a niente mi misi a fotografare il sole perfetto non capisco perché lo feci nel 1948 si innamorò di una maestra della cerimonia del tè di Takada Asa Naubu e la sposò per lui questo matrimonio era un segno del destino e fu molto importante già prima Amaya aveva un sentimento particolare verso Chanoyu cerimonia del tè non per il suo rito formale ma per il suo principio o cuore Wabi e Sabi queste due parole che significano tutte e due passare la vita tranquillamente sono fondamentali nella cerimonia del tè e nella mentalità tradizionale dei giapponesi tutti i giapponesi compresi quelli che non sanno fare il Chanoyu hanno la sensibilità e la mentalità di Wabi e Sabi su cui è basata la loro vita come apprezzare la bellezza e come vivere questo matrimonio con una donna che conosceva profondamente il senso di Chanoyu ebbe una grande influenza sul suo lavoro dopo il suo matrimonio si impegnò molto in lavori nel campo del giornalismo lavorò per le principali riviste come Bungay Shunju Chuokoron e Fujinkoron durante questo periodo presentò le sue fotografie alla mostra internazionale di fotografia a Venezia e fece un viaggio in Cina gli anni 50 stavano per finire gli anni di lotta contro il governo e contro il rinnovamento del patto di cooperazione politico-militare con gli Stati Uniti gli anni più tesi dopo la fine della guerra stavano per iniziare il patto era stato sanzionato dal trattato di pace dell'ottobre del 51 era un patto ingiusto in base a esso il Giappone doveva permettere agli Stati Uniti di avere un numero illimitato di basi militari tutte le strutture pubbliche gli uffici per il controllo aereo la ferrovia la posta il telefono il centro di meteorologia dovevano essere praticamente a disposizione delle forze americane e i militari americani le loro famiglie e quelli che appartenevano alle forze americane e residenti in Giappone godevano dell'extraterritorialità sia nella loro base che fuori infine le spese delle forze americane di stanze in Giappone dovevano essere pagate dal Giappone inoltre il trattato di pace non risolviva i problemi del territorio le isole Amami-Oshima Okinawa e Ogasawara erano sotto l'occupazione americana senza limite di tempo mentre le isole Chishima Abomai e Shikotan erano occupate dai sovietici insomma il Giappone non gli è data proprio bene comunque dopo la seconda guerra mondiale eh potevano anche non essere dalla parte sbagliata però insomma diciamo che è un po' troppo nel 1960 si manifestò un movimento fortissimo contro il rinnovamento di questo patto ingiusto che coinvolse tutti i giapponesi il palazzo del parlamento fu circondato ogni giorno da centinaia di migliaia di persone e il 15 giugno più di 5 milioni di persone parteciparono ai cortei che si svolsero in tutto il Giappone provocando incidenti e scontri sanguinosi nonostante ciò non si poteva evitare che il patto fosse rinnovato sia pure con qualche miglioramento gli slogan contrari allora sparirono lentamente restarono solo alla disperazione e un senso di sfiducia in tutta la popolazione nel 1960 in Giappone la tensione era fortissima come se si fosse alla vigilia della rivoluzione mi stupì che così tanti giapponesi si interessassero tanto alla politica materia che avevano seguito fino ad allora con disinteresse pensai che anche i giapponesi avevano cambiato mentalità questo interesse per la politica da parte del popolo era un fenomeno temporale dopo questo movimento che sconvolse Giappone coinvolgendo tutta la popolazione venne lo straordinario sviluppo economico le lotte furono dimenticate tutti erano contenti di vivere nella prosperità fu un cambiamento molto veloce che si verificò in tutto il Giappone dall'arsipelago Giappone non mi è mai sembrato così difficile capire i giapponesi come vedendo un cambiamento così veloce credevo di aver capito abbastanza bene la mentalità dei giapponesi poiché avevo avuto molte occasioni per conoscere tante persone dal volto della terra il rapporto tra l'uomo e la natura muta col tempo e il modo in cui ognuno vede la natura è diverso a seconda della sua professione gli ingegneri pensano di costruire gli imprenditori turistici pensano al miglior modo di guadagnare i cacciatori pensano agli animali i poeti e i pittori cercano la bellezza i geologi la guardano con attenzione i geologi la guardano con l'attenzione degli scienziati allora i fotografi come devono vedere la natura? vedere la natura da fotografo divento il mio obiettivo vederla come paesaggio non ha senso per me fotografare la sua bellezza artistica è contro i miei principi cercai di vederla con gli occhi degli scienziati e di trovare l'espressione scientifica della fotografia fotografare come un fotografo o fotografare come un artista non mi piace la distinzione i fotografi non devono restare soltanto nel campo della fotografia lavorerò con gli studiosi del costume e gli antropologi appunto per constatare la funzione della fotografia anche negli altri campi dall'arcipelago Giappone per tre anni e quattro mesi Amaya girò tutto il Giappone per vedere la sua natura mi sono perso per tre anni e quattro mesi Amaya girò tutto il Giappone per vedere la sua natura massa dei ghiacci galleggianti da Shiretoko in Hokkaido atollio di Okinawa vulcani, mare, montagne alte fiumi, laghi, palude altopiano di calcare foresta vergine cima del monte Fuji non restava molta natura intatta in Giappone ma in essa erano visibili i segni del cambiamento del suo volto piante e configurazione della terra Amaya si rese conto come la natura nei suoi vari aspetti nei suoi vari momenti avesse influenzato la formazione della mentalità complicata dei giapponesi che muta facilmente decise di seguire la natura e la vita dell'uomo in una visuale più ampia la sua visione che puntava su un paesino della valle Kuwatari si allargò a tutta la zona sul mare giapponese e adesso si è allargata a tutto il mondo cercò di fare le fotografie possibilmente con gli occhi e con l'attenzione degli scienziati girò e fotografò su tutti i continenti Europa, America Cime dell'Himalaya Australia Oceano Pacifico Gorenlandia Asia Minore Deserto del Sahara Cina nel suo lavoro di mezzo secolo come fotografo si notano la sua forte volontà la sensibilità e la passione verso la natura è proprio la vita di un fotografo degno di essere chiamato il fotografo del cielo Hiroshi Amaya dopo Labroni che abbia 15 anni ha prevalentemente usato per il suo lavoro una laica per i paesaggi a colori si è servito di una Linof grande formato attualmente sceglie i suoi apparecchi tra la varietà di 35 mm prodotti dall'industria giapponese ecco quindi quindi insomma usava un medio grande formato insomma no medio formato quanto è che è morto lui? non si sa non credo sia ancora vivo immagino ovviamente nel 1999 ah minchia lo guardavo dovuto prima su wikipedia il 15 marzo del 99 gli è venuta polmonite minchia c'è anche un'altra c'è una roba in più da leggere le ultime sono proprio andrebbe essere abbastanza veloce sulla fotografia giapponese in generale attenzione ma secondo me non avevano molto di informazioni su di lui in generale neanche se si guarda su internet c'era tanto cioè sono ripetute cose cioè sono cose ripetute di continuo non ti dicono molto se non che gli piaceva la natura e che ha girato il mondo anche qua in generale su internet vedi che sì è un fotografo di paesaggio però servizi gira servizi per tutto il mondo lavora per Magnum perché è stato assunto nel 60 da Magnum Photo ah ok ed è stato il primo fotografo asiatico eh qua non c'è neanche scritto ad esempio che lavora per Magnum poi nel 1960 poi vabbè poi parte i classici libri pubblicati sì eccolo qua sì c'è scritto nella biografia c'è scritto vabbè sì diciamo che nella descrizione c'è scritto pochissimo quindi secondo me avevano poche informazioni dovevano riempire tre pagine come l'altra volta perché cioè è veramente vabbè un po' nullo si parla di tanto di tanto altro ma poco di lui forse vediamo qua cosa se dicono qualcosa di interessante oggi i progressi della fotografia in Giappone sono paragonabili se non superiori a quelli che si verificano nei maggiori paesi occidentali ma non è sempre stato così date le pesantissime restrizioni imposte al commercio e a qualsiasi genere di scambio con il resto del mondo i prodotti e le scoperte di altre civiltà e culture che riuscivano a penetrare il Giappone furono per lungo tempo estremamente rari la fotografia non era un'eccezione non è possibile dire con precisione quando la fotografia fu introdotta in Giappone ma certamente a partire dal 1857-58 cominciarono a esserci anche in questo paese dei fotografi dilettanti con un ritardo quindi di circa 20 anni rispetto all'Europa e agli Stati Uniti da quel momento tuttavia gli sforzi di alcuni pionieri di buona volontà assicurarono il progressivo sviluppo della fotografia giapponese molti fotografi ritrattisti preso l'abitudine di effettuare soggiorni di studio in Europa e in America per familiarizzarsi con le tecniche della loro professione la fotografia amatoriale restò comunque a lungo il passatempo di alcuni appassionati e solo dopo la prima guerra mondiale la sua pratica si diffuse tra più ampi strati della popolazione uno dei più significativi rappresentanti della fotografia amatoriale Shinzo Kukuhara abbracciò con passione nel 1923 l'impressionismo fotografico quando in Gran Bretagna così come in altri paesi europei e negli Stati Uniti questo genere che era stato di moda tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX era ormai stato sostituito da altre correnti verso la fine degli anni XX le tendenze più moderne della fotografia si imposero anche in Giappone opere come Malerei Malerei Fotografi Film Das deutsche Lichtbild Die Welt ist schon Es kommt der neue Fotograf così come il realismo del movimento tedesco Neue Sachlichkeit e il surrealismo di Malerei avrebbero avuto un'enorme influenza sulla formazione di maggiori fotografi giapponesi del resto il Giappone in questa epoca era nelle condizioni sociali e psicologiche adatte per accettare e assimilare tali movimenti e idee Il pensiero marxista si era sviluppato nel paese negli anni 23-24 raggiungendo il massimo sviluppo intorno al 1930 ma nello stesso tempo si facevano strada anche tendenze ideologicamente opposte Mentre le prime preconizzavano in fotografia il realismo sociale le seconde cercavano di realizzarsi per mezzo di effetti surrealisti e non realistici Masao Horino e Ihei Kimura rappresentavano la prima tendenza In questo periodo rientra in Giappone dalla Germania dove aveva lavorato come fotografo della Berliner Illustrierte Zeitung Yonozuke Natori e insieme con alcuni colleghi nel 1933 fondò a Tokyo uno studio di fotografia e di arti e mestieri Egli fu il primo a introdurre in Giappone il concetto di reportage in senso occidentale utilizzando principalmente per i suoi servizi un apparecchio 35 mm Da questo momento i legami tra fotografia e giornalismo divendero sempre più stretti Accanto a fotografi impiegati a tempo pieno da un giornale altri fotografi indipendenti lavoravano anch'essi per i periodici Si formò così un nuovo gruppo di professionisti mentre da altro canto cresceva anche la domanda per le foto di moda Sigeru Tamura fu tra quelli che si dedicarono esclusivamente a questo settore Le fotografie pubblicate dai grandi settimanali americani Life, Vogue, Harper, Bazaar furono per tutti i fotografi di questo periodo un prezioso strumento di apprendimento Durante la guerra cino-giapponese scoppiata nel 1937 il controllo governativo divenne più pesante su tutti i campi della vita culturale e tutti i fotografi professionisti o direttanti si vederò spinti sulla strada del fotogiornalismo Dopo il 1941 quando la guerra mondiale si è stesa al Pacifico divenne praticamente impossibile fotografare liberamente da un lato per la difficoltà di procurarsi materiali e apparecchiature dall'altro per le rigide misure antispionaggio imposte dalle autorità Così fin dall'inizio della guerra i migliori fotografi furono assegnati ai vari fronti oppure costretti a lavorare per le forze armate anche in Giappone Al di fuori di ciò sembrava non vi fosse spazio per la fotografia Alla fine della guerra i circoli fotografici giapponesi erano praticamente scomparsi Mancava materiale L'industria fotografica delle pellicole come degli apparecchi che durante la guerra era stata messa al servizio delle esigenze militari era distrutta Non esistevano più pubblicazioni che potessero permettere ai fotografi di far conoscere al pubblico le proprie opere In quel momento sembrava che fossero necessari molti anni prima di ristabilire condizioni più normali e più favorevoli La ripresa fu più rapida di quanto si potesse pensare La produzione di obiettivi segnò progressi che all'epoca prebellica non aveva neppure immaginato grazie soprattutto alle ricerche effettuate nel campo della strumentazione ottica durante il conflitto Il fatto che i fotografi di Life inviati in Corea utilizzassero obiettivi giapponesi fu la migliore conferma della loro qualità Benché agli inizi il Giappone non disponesse che di carta scadente e di tecniche di stampa molto mediocri la ripresa del campo delle pubblicazioni illustrate fu ancora più rapida anche in quello dell'industria fotografica Accanto alla riedizione dell'Azai Picture News fondato nel 23 apparvero per qualche tempo Photo Fact e Sun News Weekly finché nel 48 fu la svolta di The Mainichi Graphic divenuto settimanale dal 53 Tra le riviste fotografiche Camera fondata nel 21 e se soppresa nel 36 riapparve nel 46 seguita da Koga Gekkan e da Asai Camera che oggi con 150.000 copie vanta la più alta tiratura tra le riviste fotografiche giapponesi In totale oggi si stampano dalle 400.000 alle 500.000 copie di riviste specializzate Ohei Kimura e Ken Domon ebbero la maggiore influenza sulla fotografia giapponese del dopoguerra assicurandosi una posizione di Capofila Le immagini che si presentarono agli occhi di innumerevoli giapponesi dopo la guerra mostravano soprattutto un paese devastato e un popolo sconvolto I fotografi ben lontani dal voler sfuggire la realtà si fecero un punto d'onore di affrontarla e di dare un'immagine veritiera delle trasformazioni che aveva subito la vita del loro popolo Non contenti di registrare la vita quotidiana della popolazione nelle ore più tragiche della sua storia nazionale i fotografi si sforzarono anche di cogliere attraverso le loro immagini la vita nuova che si ostinava coraggiosamente a farsi strada e di dipingere le manifestazioni di effetto e di calore umano in mezzo alla miseria di quegli anni era un lavoro estremamente difficile la ricerca incessante del momento e della verità in questo senso Hiroshi Amaya che nella sua lunga carriera ha fatto di tutto dal fotogiornalismo al documento sociale al paesaggio a colori dal fotogiornalismo al documento sociale al paesaggio a colori in cui è maestro è uno dei più alti rappresentanti della fotografia giapponese non c'è da stupirsi che per coloro che seguirono soprattutto i dilettanti questo genere di realismo abbia presentato difficoltà insormontabili qualche anno più tardi nel 1953 fu pubblicato in Giappone il libro di Henry Cartier-Bresson Image à la Sauvette esso apparve a molti fotografi come un faro luminoso in una notte bianca confermava che la via del realismo era quella giusta insegnava loro che nel realismo la percezione della forma è altrettanto importante della comprensione implicita e del significato esplicito del soggetto e che una fotografia acquista il suo valore solo quando tutti questi elementi sono allo stesso tempo presenti più tardi le mostre l'opera di Cartier-Bresson e la famiglia dell'uomo avrebbero ulteriormente incoraggiato gli adepti del realismo per coloro che invece cercavano un diverso modo di espressione il libro di Otto Steiner Subjective Photography apparso in Giappone nel 54 costituì uno stimolo importante anche se il libro contiene alcune immagini della scuola realista l'attenzione si concentrò sulle immagini astratte o surrealiste coloro che si ispirano a questa forma di fotografia non sono tuttavia numerosi accanto a queste due concezioni permangono poi molti adepti del pittorialismo che hanno il loro feudo nei circoli amatoriali di cui i principali sono il Naniwa Photographic Club di Osaka la Tokyo Photographic Study Society e la Japan Photographic Society si calcola che i fotografi dilettanti in Giappone siano circa 5 milioni di cui 60.000 sono soci di un club vabbè come qui in Italia testi numeri l'interessante per la fotografia giapponese in occidente si può grosso modo datare dalla fine degli anni 50 quando c'è nel 59 20 fotografi giapponesi tra cui Hiroshi Amaya ebbero la loro prima mostra europea nell'ambito della seconda mostra biennale internazionale di fotografia a Venezia da allora un po' troppo lungo da allora in Europa e in USA USA molto si è detto e scritto su quelle che appaiono tra le due principali attitudini dei fotografi giapponesi sotto missione alle tradizioni o volontà di rottura come tutte le semplificazioni anche questa ha un carattere molto relativo in realtà nella fotografia giapponese le influenze esterne e le tradizioni finiscono col venire a patti da quando nel 52-54 la squadra navale comandata dal comodoro statunitense Matthew Perry forzò la baia di Edo imponendo al Giappone l'apertura dei porti al commercio estero la civiltà e la cultura del paese oscillarono sempre tra l'ieri tra l'apostrofo ieri e Logical tutti i famosi bokeh floreali a qualunque scuola appartengono si inseriscono in un triangolo rientrato nella regola dei tre ubbidiscono quindi alla classica sezione aurea non per questo l'occidente ha scoperto l'arte dei mazzi di fiori nei giapponesi conoscevano la sezione aurea cosa stiamo finiti a parlare di fiori mi sono perso il passaggio anche io ovviamente se non è una cosa contorta non è giapponese no chiaro devono esserci mille rimandi a qualcosa oggi l'arcipelago non è solo il magnifico giardino di sassi e sabbia rastrellata di rio Anji o la stazione ultramoderna di Ikebukuro e la fotografia non può limitarsi agli aspetti nostalgici dei tempi passati ma deve descrivere ed esprimere la lealtà viva Yuroshi Amaya è tipicamente giapponese un giapponese della tradizione ma anche della modernità ecco attenzione frase per chiudere incredibile bene e anche Hiroshi Amaya ne abbiamo parlato eccolo qua bello come il sole bello come il sole pazzesco beh dai un altro mattissimo sì 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 Amaya ha bellissime le foto intanto posso tornare possiamo tornare in cam ok perfetto vabbè 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 rispetto a rispetto a PIN una cosa completamente completamente differente diciamo sì assolutamente quindi qua siamo quasi più a livello di come abbiamo detto alla fine di foto amatore quasi eh sì un successo abbastanza abbastanza grosso perché andare a lavorare per Magnum comunque anche collaborare con le varie riviste l'ha portato ad avere una buona più che buona notorietà oltre che ad essere stato il primo asiatico a fare a fare parte di Magnum perciò interessante anche come in quegli anni appunto fare fotografia poteva anche essere una cosa diciamo un pochino più tra virgolette semplice sì sì diciamo che sì beh è stato un attimo ecco sì beh diciamo che appunto ha avuto il suo il suo percorso insomma anche ha fatto un po' di tutto e poi si è posizionato dove dove voleva ma comunque cioè si vede comunque che è bravo e che le due cose principali che hanno per cui probabilmente è più famoso sono la documentazione e il paesaggio perché sono le uniche cose che hanno mostrato nella rivista sì anche perché poi penso che abbia fatto per lo più quello siccome è stato in gioco talmente tanto tempo e poi la sua indole era quella di raccontare di raccontare il paesaggio o comunque quello che c'era nella nella sua terra esatto sì sì e comunque sì anche qui abbiamo uno spaccato abbastanza diverso da quando da quello di Pinna ecco può anche essere che adesso non vorrei dire ma può anche essere perché Pinna essendo italiano magari è stato un po' cioè non so forse la rivista spingeva un po' di più i nomi italiani un po' per 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 vanto può essere magari che quando c'erano fotografi italiani magari cercavano di dedicargli più più tempo o semplicemente c'era più proprio c'erano proprio più informazioni proprio per il fatto che è italiano e quindi una rivista italiana può più facilmente avere informazioni a riguardo abbiamo proprio delle volte erano proprio informazioni spannometriche sul giapponese quindi sì qui esatto erano molto molto alla larga hanno ripetuto 800 volte che ha fotografato il mare giapponese l'abbiamo capito cioè perché devono fare numero di parole forse devono finire la colonna esatto concreto sì esatto ma c'è un po' è un po' tutto generico su di lui vabbè l'ho preso perché appunto mi piacevano le foto l'avevo già sfogliata e ho detto oggi parliamo di lui a sto punto no no è giusto perché così dopo si era molto interessante come era la fotografia dall'altra parte del mondo perché sì esatto non volevo prendere per forza un altro italiano ma non volevo prendere nemmeno un altro un fotografo super conosciuto in senso poi magari io non lo conoscevo per esempio ma io non conosco molti quindi per me tutti quelli che prendo sono nuovi quasi quindi ci sta però bene dai l'abbiamo fatto un'ora e mezza comunque ci sta alla fine come sempre va bene ragazzi e voi avete ma visto che siamo in otto se avete domande cose fatele prima che stacchiamo che è stato comunque intanto grazie a tutti quelli che sono rimasti che sono stati qua tutto questo tutto questo tempo potete seguire su su tutti i social abbiamo il sito web che è molto è molto ricco e poi la pagina instagram che è dove mettiamo le notizie più importanti un po' i post dove facciamo cose dove ci siamo noi che facciamo cose o scriviamo articoli su determinate cose sempre e facciamo cose insomma esatto e poi facciamo ogni tanto su youtube ma adesso visto che siamo ancora con le regioni bloccate siamo un po' fermi con i video eh sì intanto ricarichiamo le live intanto con una velocità incredibile uno spaccato generale di tutto di tutto quello che facciamo se volete poi dire c'è il sito web esattamente nel caso poi se avete domande dubbi curiosità potete scriverci su instagram che tanto rispondiamo sempre e così dopo vedete un po' insomma se volete anche affrontare dei temi alla domenica su altri fotografi così basta che ce lo dite che non ci sono problemi sì perché noi per adesso stiamo portando le riviste perché ce ne sono tante però in realtà si può sempre organizzare per fare qualcosa che magari approfondiamo un fotografo nello specifico magari noi in generale cioè con voi in diretta insomma bisogna si può studiare un attimo insomma o anche magari chiamare qualcuno che ne sa e che ne parli magari potrebbe essere interessante anche quello magari sì assolutamente va bene vedo che non c'è nulla quindi ci salutiamo andiamo a fare il nostro pomeriggio di ozio esatto merenda io forse mi non so adesso forse mi butto in live a giocare a qualcosa bravo invece non lo so prima però mi faccio un altro teino però è proprio c'è proprio una giornata da pisolino adesso esatto da pisolino mi leggo un libro e poi dopo vedo bravo anche io no anche io leggo un po' c'ho la divina commedia di gonagai qua vicino che in questi giorni sono pazzo cioè sono lì sono gonagai per me dio bene va bene dai signori ragazzi come sempre è stato un piacere seguiteci ovunque come abbiamo detto prima e chi ha perso la live la può rivedere su youtube e chi la sta vedendo un saluto a chi la guarda su youtube esatto e basta noi ci vediamo probabilmente anzi sicuramente venerdì comunque su instagram nella bio trovate aggiornato ogni volta ogni settimana tutte le date delle live gli orari ci vediamo comunque venerdì che è appuntamento fisso alle nove e non sappiamo ancora se avremo qualcuno che parla con noi o se sarà una live tra noi quindi adesso vediamo un attimo vediamo un po' dobbiamo un po' fare mente locale organizzare esatto quindi alla prossima e a venderti ciao 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 ciao